Radio Firenze Viola Tweet Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola Una calorosa buonasera a tutti i nostri ascoltatori Women's, clamorosa Torino Allianz Stadium, completamente esaurito per la sfida di domani alle 15 tra Juventus e Fiorentina In totale, infatti, saranno circa 39.000 gli spettatori presenti alla gara decisiva per le sorti dello scudetto femminile Mercato, si susseguono le voci che vedrebbero Chiesa lasciare Firenze Marino, si dice sicuro, andrà alla Juve ma le sorprese non si fermano qui Retroscena delle ultime ore parlerebbero di un accordo già trovato tra Veretù e il Napoli Il nodo sarebbe solo la richiesta Viola Fiorentina, infatti, disposta a cedere il francese non a meno di 30 milioni di euro Nazionale, stasera anche in campo gli azzurri di Mancini contro la Finlandia alle 20.45 il calcio d'inizio tra gli undici titolari ci sarà anche Cristiano Biraghi che si prenderà la consueta fascia difensiva sinistra davanti, invece, occasione per il giovanissimo Kim della Juventus Per Fiorentina1.com Gianmarco Fusi Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola